Buonasera a tutti amici ed amiche della pancia del tifoso e dei senza giacca. Ennesimo derby contro l'Empoli ed ennesima non vittoria. Ultimamente ci capita molto spesso. Un Empoli molto molto ben messo in campo che ai punti meritava anche più di noi. Noi abbiamo provato ad attaccare l'ultima mezz'ora ma senza creare nessuna occasione nitida da gol e ogni difensore dell'Empoli chiudeva molto molto bene i varchi nell'area di rigore e anche fuori. Come detto prima erano veramente ben messi in campo. Dieci punti per la squadra Empolese che conquista l'ennesima bella partita di questo inizio stagione. Mentre noi ci adagiamo a metà classifica, una classifica cortissima che abbiamo sette punti, ennesimo pareggio, solo una vittoria e una sconfitta a fare da entramezzo alle partite che abbiamo pareggiato consecutivamente. Sconfitta a Bergamo e vittoria in casa contro la Lazio. Speriamo di migliorare. Secondo me le potenzialità ci sono. Oggi nessuno ha dato quello che poteva a mio parere. Una partita dirigente da parte di tutti con il solito grande impegno davanti di Moise Ken e l'impegno anche di Gudmusson, di Kwame, ma un po' di tutti qua. Però non siamo riusciti a creare assolutamente il nulla del nulla cosmico. Adesso giovedì ci aspetta il New Saints. Iniziano le amichevoli della Conference League che però purtroppo ci vedono sempre sconfitti poi in finale appena incontriamo una squadra mezza seria. Ahimè, tant'è così gli ultimi due anni. Vediamo come andrà a finire quest'anno. Per poi giocare domenica sera alle 8 e tre quarti. Una partita molto molto importante per andare alla pausa con il morale alto contro il Milan in casa. Speriamo bene. Un Milan in netta ripresa dopo il derby vinto che gli ha dato quella scossa che gli serviva per ripartire alla grande. Poi pausa per le nazionali e si va a Lecce il 20 di ottobre alle 3, mi sembra. Non vorrei sbagliare. Stiamo a vedere. Speriamo che Mr. Palladino riesca a concludere bene questa seconda fase della stagione che anticipa la seconda pausa per le nazionali. Speriamo in un netto miglioramento perché ci vuole anche perché fino a qua di partite convincenti ne abbiamo viste veramente veramente poche. Un abbraccio a tutti quanti. Ci vediamo presto alla domenica prossima dopo la partita. Speriamo con un ottimo risultato. Non sarà facile ma speriamo bene. Al commento contro i rossoneri. Ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti quanti e forza viola. Un abbraccio a tutti quanti e forza viola. Un abbraccio a tutti quanti e forza viola.